Ci risiamo, l'Associazione Ambulanti UGL Calabria non ci sta sui torti che sta subendo e protesta perché non è equo pagare la TOSAP, la Tassa sull'Occupazione di Spazi e Arei Pubbliche, oggi trasformata in canone unico quando c'è stata la prologa dell'esenzione fino al 31 dicembre 2021. Così quanto recita il testo della legge di conversione del decreto sostegni approvato alla Camera dove c'è il rinvio al 31 dicembre 2021 per il pagamento delle tributi a favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Ciò come dalla proroga dell'esonno del canone unico 2021 ex TOSAP, novità del testo della legge di conversione del decreto sostegni approvato alla Camera con il rinvio al 31 dicembre 2021 per il pagamento di TOSAP, COSAP e Tassa sulla pubblicità. Tale provvedimento è stato adottato per effetto di un emendamento approvato in Commissione, Bilancio e Finanze e poi dalla plenaria. Quindi le misure già introdotte fino al 30 giugno sono estese al 31 dicembre 2021. L'ufficialità si avrà con il via libera definitivo e la pubblicazione del testo della legge di conversione in gazzetta ufficiale al termine dell'iter parlamentare. A far sentire la voce di questi lavoratori che affrontano continui sacrifici è Luciano Lamanna, presidente UGL del Basso Ionio. Sono Luciano Lamanna e faccio parte al direttivo regionale ANUGL e sono stato nominato presidente ANU Basso Ionio. E niente, noi come commercianti abbiamo ricevuto l'ennesimo torto, il quale il comune di Siderno e il comune di Stilo, nonostante siamo stati esenti dalla TOSAP, hanno chiesto ai commercianti il pagamento. Come associazione siamo subito intervenuti tramite il nostro segretario Marrico Rosato, il quale ha fatto subito una PEC dicendo che la legge non è quella che loro dicono. Ma la cosa più grave è quella di Stilo, che i nostri ambulanti associati li hanno fatti pari anche nell'anno 2020-2021, il quale è una cosa contro legge e per fortuna che abbiamo questa associazione che ci sta aiutando tantissimo, ci ha fatto vedere un'altra realtà, ci dà le armi per combattere, in cui adesso ci danno tutte le leggi, quello che dice realmente la legge, non le solite chiacchiere in cui eravamo abituati a sentire. L'appello perciò è agli amministratori e in questo caso ai commissari prefettizi di Siderno e di Stilo per intervenire e ascoltare le richieste degli ambulanti. Categorie di lavoratori che il giorno 20 settembre prossimo si ritroveranno alle ore 17 all'hotel Castel Monardo di Filadelfia di Vibo Valencia per l'assemblea regionale presieduta dal presidente Mario Pino, coadiuvato dal segretario Vincenzo Bucinna e la presenza del presidente dei fieristi Salvatore Alessandria, tema dell'incontro, le prospettive di sviluppo e le criticità attuali. L'invito dei responsabili ANA UGL è esteso anche a senatori e deputati calabresi. Grazie a tutti.